il Napoli subito si porta in attacco però la difesa sbaglia uuuu patrissimo ci provo devo provare a battere questo calcio d'angolo in modo perfetto però trovo solo maglie Napoli giocante di super velocità del Napoli attenzione incredibile di testa fuori vediamo se riesco a saltarlo attenzione via via spattiamo la palla attenzione perché sono da solo tutto di prima tutto di prima la difesa recupera con un'alzata di tacco lo vedo prendila la palla però io ti vedo però la palla la devi prendere il passaggio non so per chi era uh recupero palla oh attenzione attenzione ho perso un pallone che non dovevo perdere non è possibile vediamo se posso avanzare mi ferma mi ferma però forse la palla è uscita vediamo no invece no la teniamo comunque porca troia la perdo vabbè finisce il primo tempo 1 a 0 va bene così 1 a 0 va bene così